Vladimir Luxuria parla di un episodio infelice della sua vita. Ho pensato di meritarmi la sofferenza. Oggi Vladimir Luxuria ha rilasciato un'interessante intervista sull'ultimo numero del magazine Vero per presentare ai lettori il suo nuovo singolo, il cui titolo è King Kong, un inno contro l'ipocrisia, come lei stessa ha rivelato in diverse occasioni. Ad un certo punto la giornalista del settimanale ha domandato a Vladimir Luxuria se nella sua vita ha mai vissuto un amore impossibile. E l'opinionista di Barbara D'Urso ha risposto affermativamente, aggiungendo che questa persona ha deciso di troncare il rapporto per paura del giudizio altrui. Una decisione che l'ha gettata nello sconforto, tanto da arrivare a colpevolizzarsi. Ho pensato che fosse colpa mia, che meritavo la sofferenza. Vladimir Luxuria confessa. In passato pensavano che quelle come me dovessero essere infelici a vita. La giornalista del settimanale Vero, dopo aver ascoltato questa confessione di Vladimir Luxuria, ha quindi domandato il motivo per cui ha avuto questa reazione. E Vladimir Luxuria ha fatto presente di aver vissuto tutto ciò in un periodo in cui non c'erano i vari Pride e non si parlava certo in Parlamento di leggi contro l'omotransfobia. Si pensava che quelle come me avessero un unico destino, ovvero l'infelicità. La giornalista del magazine ha poi domandato a Vladimir Luxuria se pensa che da allora le cose sono migliorate. E l'opinionista di Barbara D'Urso, che giorni fa ha fatto una secca smentita relativa a un articolo uscito su un giornale, ha risposto di sì. E continueranno a migliorare, sono ottimista. Vladimir Luxuria certa. Con le leggi si supereranno i pregiudizi. Successivamente la giornalista di Vero ha domandato a Vladimir Luxuria in che modo le cose continueranno a migliorare per le persone LGBTQ+. E l'ex onorevole, con estrema schiettezza, ha risposto di essere certa che grazie alle leggi si supereranno anche certi pregiudizi. Vladimir Luxuria sul DDL Zanna ha poi rivelato che anche se in Parlamento c'è chi fa resistenza per una sua approvazione la comunità LGBTQ+, non si abbatterà. Andiamo avanti.